Avrei voluto ovviamente essere lì con voi, amici e amiche, compagni e compagni di Cagliari, perché mettere in campo un processo di buona politica nel capoluogo di una regione oggi prigioniera di una delle destre più inconcludenti, incapaci, affaristiche d'Italia è molto importante. La Sardegna vive una stagione terribile di crisi sociale, di credibilità delle istituzioni e noi dobbiamo sentirci impegnati in un'operazione forte di ricostruzione del nesso tra politica e vita e dobbiamo essere in grado davvero di far vivere la contesa politica come un'occasione per cambiare concretamente la dimensione materiale delle cose, cambiare i processi che riguardano il volto della città, l'organizzazione dei servizi sociali, la cura nei confronti dei bimbi o degli anziani, la capacità di rompere la grande barriera architettonica che impedisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza a tanti e a tante. Ebbene, le primarie servono a scegliere il candidato del centrosinistra. Il centrosinistra ha fatto tanti errori in Sardegna e ha in qualche modo anche un qualche grado di corresponsabilità nella sconfitta di Renato Soru. La Sardegna oggi paga un prezzo veramente altissimo perché mai o da tanto tempo non si vedeva un degrado complessivo come quello che riguarda il governo regionale della Sardegna. E allora a Cagliari noi possiamo rimettere in campo un centrosinistra che non è, come posso dire, la combinazione degli equilibri dentro il ceto politico, ma che è un grande cantiere che parla il linguaggio del futuro, che è in grado di conoscere, incontrare le giovani generazioni e che è in grado di parlare delle ambizioni di una città come Cagliari, di parlare delle sue ferite, delle cicatrici, del male che c'è, della bruttezza che c'è, ma anche di parlare delle chance, delle possibilità e della bellezza di questa città, del suo fascino, della sua storia e di come Cagliari si vuole proporre nei confronti della sua regione, della Sardegna, nei confronti dell'Italia, nei confronti del Mediterraneo. Cagliari come uno dei cuori pulsanti del Mediterraneo. Ecco, per quello io penso che bisogna fare di tutto perché vinca Massimo Zedda, perché vinca un volto giovane, un ragazzo che è fuori dalla vecchia mischia, fuori dai giochi del passato e che per il centrosinistra rappresenta la possibilità di ricominciare sul terreno più strategico, quello dell'incontro davvero con le domande dei giovani. Volevo raccomandarvi questo, di immaginare che siamo lì, siamo dentro una contesa vera e dentro la possibilità che questo ragazzo possa vincere, possa spiazzare i giochi degli strateghi della tattica, che possa aiutare il centrosinistra a rinnovarsi profondamente perché la politica possa essere da parte di questa coalizione l'offerta che davvero è capace di conoscere, di frequentare i soggetti sociali che vivono in questa città. Io faccio gli auguri a Massimo, faccio gli auguri a Cagliari, faccio gli auguri a tutti voi e spero davvero che domenica dalle urne possa uscire una buona notizia per questo posto così emblematico del Sud e una bella notizia per tutto il centrosinistra.